Musica Allora fammi controllare una cosa A parte appunto l'infermiera Cosa potremmo fare? Mi sa che la sera attualmente abbiamo solo lei In teoria fammi ricontrollare una cosa Il tutor La sera ok però ci serve alta comprensione Che al momento ci stiamo lavorando Siamo sulla buona strada con tutto Il coraggio effettivamente dà un po' che non lo stiamo toccando Però diligenza con la scuola ce ne andiamo tranquillo La comprensione purtroppo è una cosa che ci permette di farlo solo i libri Ma forse forse ho una mezza idea Accarezzare il gatto aumentava la comprensione vero? Eh bella domanda Andiamo all'ospedale Belfagor si rafforzerà presto vuoi lavorare? Non sapevo che fossimo in Italia Vai Anzi no Non sia Ah beh però è vero aspetta Il coraggio lo stiamo facendo qua è vero Me l'avevo scordato Dicevo non siamo in Italia Perché pure qui a lavorare in part time Hai un contratto migliore di quelli da staggista in Italia Wow Credo di aver sentito qualcosa il coraggio aumentato Non abbastanza In teoria questa è la Che succede? È la settima volta con lei E probabilmente ci saranno delle volte in cui dovremmo recuperare Quindi avremo ancora un po' di volte con lei E di conseguenza penso che se continuiamo con l'ospedale Il coraggio ce lo possiamo fare tranquillamente La diligenza appunto la facciamo con la scuola Mal che vada con qualche altro inghippo riusciamo a tirarla su La comprensione O leggiamo i libri O il gatto O il tutor A quale stanza era? Qual era il paziente di cui parlava Aweara-san? Dico Che cosa? Sbrigati ad andare o ti mangerà viva Ultimamente è davvero tremenda Si sta impegnando troppo Se avete tempo per chiacchierare Lo avete anche per controllare i pazienti Nakata-san Stanza 512 È eseguito la disostruzione del paziente? Io stavo giusto per andare Quando si tratta di battere la fiacca Sei insuperabile Takashi-san Il modulo per ordinare l'attrezzatura Non è stato compilato a dovere Ci sono diversi errori Mi dispiace Lo correggo subito Ci ho pensato io L'ho già inviato Ora va E beh dopo quello che è successo Ci credo che sia un po' alterata però Star-kun Vedo che stai lavorando Molto bene Ora devo andare Sayoko è pallida Sembra davvero molto stanca Dirle di riposare Probabilmente Sarebbe sbagliato Quindi Dai Giusto Posso lavorare ancora Sayoko sorride Imbarazzata Sì È tutto pulito a dovere Mi piaci perché non te li stai con le mani in mano Sayoko apprezzo la tua etica del lavoro Senti che Sayoko si fida di te Grazie Ah già così Oh A me va benissimo Per una botta di coraggio e dei soldi Più che accettato Una roba da una botta via Oh ma non ho tempo da perdere qui Mi aspetto un'altra lunga nottata di lavoro Ci vediamo Ciao Vabbè Buttali via 6500 yen Oggigiorno Ohio Scusate Ciao In teoria sì In pratica non lo so Cosa Cosa Duh Beh Perché no Sarebbe interessante effettivamente Beh questa non è un'idea stupida Ok questa è un po' più sospetto in realtà In teoria no In pratica potrebbe anche darsi Beh ma non è tutti i torti eh Ma dai Che stronzo Che stronzo Però probabilmente dopo il check up Diventeremo amici Ci darà la carta del confident Dio mio voglio esaminare Teddy però Mi vogliono dissezionare Sottoponire il check up completo all'ospedale Non è che incontriamo l'infermiera Eh beh certo Ma dai Beh però aspetta un secondo Eh di apre e chiudo Effettivamente la infermiera non potrebbe esserci Perché ieri ha fatto il turno di notte Quindi in pratica la mattia dovrebbe essere a riposo Ciao Teddy Ovvero Ne dubito Grazie E fin là era ovvio Non abbastanza E lo taglia la metà E fin là Grazie Sono le altre loro personalità Solo che non si rendono conto A differenza nostra Eh esatto Esatto Sono diciamo persone non raffinate Non ci sei andato lontano eh Anche perché Parentesi Ovviamente del futuro è qua Diciamo non se ne sapeva ancora In persona 5 Le ombre hanno l'aspetto delle persone E tu puoi reclutare delle ombre Che sono già a forma di persone Che si trasmutano appunto in persone Nel momento in cui Joker le assorbe E quella è una cosa che mi piace infatti Di persona 5 Qua diciamo che non è brutto il fatto che Le ombre hanno un aspetto diverso dalle persone Ma apprezzo di più il fatto che tu combatti delle ombre Che hanno l'aspetto di persone Che quando le recluti diventano tue effettivamente Ma quello è un concetto diverso Parliamo di due giochi a distanza di moltissimi anni Che cosa hai lì? Ma dai No dai Adesso direi tipo le grandezze di seno Delle ragazze Gambe corte Lo sapevo che qualcuno lo diceva Lo sapevo E soprattutto sono cresciute Le mie sono enormi Io quelle di Ceele so a memoria Tranquilla Adesso gli strappa di mani Allora Lo sapevo Allora aspetta Devo dire una cosa Ci sono ovviamente fan art di Naoto E a quanto pare Riguardo a questi documenti Vuol dire che Naoto Delle belle zizzore ce le ha Delle belle mozzarella di bufala E fin là grazie al cazzo Ecco appunto Quello non ne avevo dubbi però Tanto io le tue misure le so già Oh aumentiamo di rango dai Tu sei tu Ci sarà una prossima volta Lo scopriremo assieme Ah di nulla Teddy si ti guarda con gli occhi pieni di gratitudine Io vorrei solo che Teddy Rimanessi sempre in quella forma Io odio il suo custom Mi sta sul cazzo Che palle Resta vestito così per favore Marukunda Cos'è che faceva? Riduce la difesa di tutti i nemici eh Tolgo questo qua Dell'aumentare la difesa Piuttosto diminuiamo Quella del nemico Che è meglio A parer mio Poi Magari mi sbaglio Eh Tanto un motorino Ci arrivo a casa eh Non pensare Sera Ok rinassai Gli esami intermedi Inizieranno venerdì prossimo Vuoi studiare? Ah no Però le piantine Le prendo volentieri Cosa avevamo piantato? Il melone? Sì Perfetto E allora se ce l'abbiamo Faccio le melanzane Eccola qua Perfetto Possiamo lavorare come Appunto Inserviente anche stasera Il gattino sono sicuro Che ci aumenta la comprensione Hai deciso di passare del tempo con il gatto La dialettica Ah Interagendo con il gattino Sei rilassata Percepire il senso di dolcezza Comprensione Ok Ok Beh Una serata un po' persa Ma Va bene dai Per una volta ci posso stare Ciao Naoto Come stai? Venerdì prossimo iniziano gli esami Ma non sono dell'umore di studiare Il vero killer è qualcun altro Siamo gli unici a saperlo Se non facciamo qualcosa Il caso finirà in un vicolo cieco Anche gli esami contano però Non sto dicendo il contrario È solo che sono in ansia Siamo gli unici con le capacità per risolvere questo caso Eppure non abbiamo modo di agire Purtroppo non ci resta che attendere la prossima mostra del colpevole E non scordiamoci di controllare il canale di mezzanotte È un momento cruciale Eh già Brava Naoto Ma io e te Amicizia Carta No Niente Domanda Ovviamente Buongiorno a tutti Indovinate un po' Ci saranno gli esami alla fine di settimana prossima Spero che nessuno di voi Stia facendo lo struzzo Divertendosi alla pazza gioia Senza aprire i libri Perché ho scelto proprio lo struzzo? Perché è una comune metafora Per coloro che rifugiano la verità da scomode Deriva dall'errata credenza popolare Per cui gli struzzi Infilino la testa sotto la sabbia Di fronte all'incombente pericolo Sentirsi al sicuro Solo perché non si vede il problema Un chiaro segno di chi fugge dalla realtà Non fate gli struzzi C'è un altro tipo di uccello però Con connotazioni codarda in lingua inglese Spara Phoenix Dica Coraggio Dimmi qual'uccello significa codarda in inglese All right Risposta esatta Pollo o chicken Si usa per identificare un fifone in inglese Esistono molteplici teorie sul perché Avete presente quando vi viene La pelle d'occa se spaventati? Ecco Sembra proprio la pelle di un pollo Un momento Perché allora la chiamano pelle d'occa e non pelle di pollo? Non ha importanza Il punto è che dovete affrontare la realtà E prepararvi in pavidi ai vostri esami della settimana avventura Hai risposto in modo esatto Conoscenza aumentata Vallo a dire a Maruki comunque questo Ciao Teddy Eh sentiamo Eh Ehi No Dovete aiutarmi a studiare Ehi ... Io pensavo per studiare, però. Non è colpa tua, però è colpa tua. Oh, Gesù, sentiamo. Pure. No, non lo farò. 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 Beh, in teoria noi abbiamo scelto quella di teatro, quindi laura di musica, siamo liberi. No, non lo farò. 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 No, non lo farò, non lo farò. No, non lo farò, non lo farò. Alla fine, non lo farò, non lo farò. Allora, non lo farò, non lo farò. No, non lo farò, non lo farò. No, non lo farò. No, non lo farò. No, non lo farò. Ma dai che stronza Cosa sta facendo Teddy Teddy smettile con quelle manine Io cantare Ecco appunto La tromba No sembrate degli sfollati Col pupazzone sui tamburi E che cazzo Ecco Allora aspetta Aspetta Vai Eh esatto Mi chiedo Se al posto del club di teatro Avessimo scelto quello musicale Se a questa qua di scena Cambiava effettivamente qualcosa Non penso Però magari Vi siete esercitati fino a tardi Decidete di riunirvi di nuovo domani Il che vuol dire niente giorni liberi fino all'esame Sicuro Ciao Hanno portato una cosa per te L'ho messa sul tavolo Catena di perline Beh Non male Allora Volendo c'è ancora il gatto Possiamo passare la serata con lui Visto che Molto probabilmente non c'è Molto altro da fare Vero? Vorrei avere almeno un pomeriggio libero Per vedere Se riesco a A passare in libreria A vedere se c'è qualcosa di nuovo Vuoi accarezzarlo? Vai Aumentami la comprensione Solo la dialettica? Oh che palle Vabbè tanto Non è che avremmo ottenuto molto altro Immagino Cos'è? Che è successo? Cosa hai fatto Teddy? No Cosa hai fatto? Dai brutto coglione Stiamo cercando di allenarci Cazzo E' già un miracolo Che siete riusciti a fare quel suono Fino ad ora Pure Addio Teddy Addio Teddy Non è finita Non è finita finché non è finita Forza Teddy Stai zitto Mamma mia quanto ti odio Mamma mia quanto ti odio Eh beh Sì Sì Quando iniziano a menarti più forte Non è finita No lo andò Non è solamente a Hannah-mura Non è nulla di fare Mi raccoglie Non è così Non è bello Sperate Sperate Hannah-mura Mi raccoglie Non è finita Noi Non è finita 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 Si Tutti Che Non è finita Vabbè Quindi Adesso Cosa Cosa E allora cosa è servita sta pausa, scusami, per farti tirare sul morale e basta? E smetti di fare il gesto dell'ombrello, tu. E allora ci siamo andati. Si, non mi ha chiesto questo, non è ilarakto! E allora, dopo, facciamo un'è, poi ora mi faccio un'è. Oh, finalmente! Qualcosa di decente! È un miracolo che riescono a suonare una roba del genio in un giorno. Punto. Non c'è altra definizione. È un miracolo. Cristo. Allora, è sempre un videogioco, ma per ottenere già solo riuscire a suonare bene un basso o una chitarra ci vogliono molti mesi almeno di esercitazione. Questo è stato un vero miracolo. Duh. ... ... ... Non è quello che ne prende. No, non è vero. Sono bene, non? Ma sei che, andate a fare un po' di stanza, e non è solo un tambari. No, non è vero. No, non è vero. Non è vero. Non è vero. No, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non c'è nulla, ma non c'è nessuno! Non c'è nessuno che noi adoribano a provare le skilli! Ok, ok? Già, l'abbiamo prima di fare! Non c'è nulla! Non c'è nulla! Non c'è nulla! La fine di fare l'ombra di tutto il resto da solo! Non c'è nulla! 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 Il dure lavoro del gruppo ha finalmente dato i suoi frutti Avete provato fino a tardi l'esibizione di domani Cazzo Oh, eccoti Ciao Immagino di dover andare a dormire, vero? Ah, ma è domenica oggi Ed eravamo comunque a scuola Ti ricordi di avere comprato niente della televendita? E beh, eravamo a scuola Solo per voi scarpe nice Splendide scarpe d'alta qualità Che meraviglia Non credo ai miei occhi Più pesce enorme per due Proviamo le scarpe Vediamo se ci vanno meglio delle altre Ne dubito Però non si sa mai Meglio provare, no? E' acquistato le scarpe nice Perfetto Vediamo cosa arriva Speriamo non sia una ciofega E io proverai a passare di nuovo la serata col gatto Nella speranza che ci aumenti a questo giro E la comprensione No, solo la dialettica Ma che sfiga Ah, ecco perché oggi eravamo liberi Perché è festa E quindi? Eh beh sì, quello è vero E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Che ci sono sempre Che piacerebbe Le ore Che ci sono E' vero E' vero Non c'è Cosa Mi sto pisciando addosso Tendi smettere con quelle mani Dobbiamo tenere dura Sto bene tranquilli Grazie Ti prenderei io schiaffi Tendi Dai stai zitto E quello? Se no Perché ho l'impressione che questa scena sarà animata invece che 3D? Non sapevo che l'avrebbero detto Se no No però dai Quella cazzo di cosa verde dovevi metterti quella nera come tutti Va bene la cosa invernale però dovevi metterla come tutti Lo sapevo Hanno sempre suonato in una band Dai Dai però fammene Cos'è con la faccia? E' tutta è storta Che bellina che è Naoto però Kanji era palese che l'avrebbero messo a fare il batterista però Palesemente Ancora 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 E quel tizio se l'è andato di nuovo No per favore Ma dai 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 Quello si Improvvisa Improvvisa Adesso cade sul cemento Sicuro Lo sapevo Lo sapevo Cristo che figura Al giune si sono radunate abbastanza persone A farvi considerare la missione compiuta O almeno vi piace pensarla così Fratellone ho saputo che hai cantato davanti a tutti Con Rize-chan La prossima volta viene anche tu Se ne ero il flauto Sarebbe stata un'ottima opzione fidati Ho sentito che l'evento in cui Kamami Mashita sarebbe stata la madrina d'onore è stato annullato Non credevo che questo ti avrebbe spinto a partecipare a un concerto davanti al Junes Ascolta non approfittarne per debuttare nel mondo dello spettacolo ok Non voglio sorbirmi le urla di tua madre No Quanta manca 5 giorni Perché mio figlio è diventato una star Cazzo Ero curioso di sapere il tizio lì vestito di verde però E ovviamente stasera non c'è una sega di nessuno I love it Ero curioso di sapere il tizio lì Ero curioso di sapere il tizio lì